L-S38 è un mini vacuum stripper con un doppio counter-rotativo brush roller. Il vacuums perfettamente, anche in ambienti molto dimenticati. Il collezione dimenticato e dimenticato, anche da dimenticati profondi. È una macchina profissionala piccola e profonda per pulire piccoli e piccoli, con una produttività di circa 1000 m2 per l'ora. Il sistema di filtrazione certificato ha un'efficienza di 99.97% a 0.3 micrometri.